Sfiora al 30% la crescita delle rassunzioni previste nel quarto trimestre 2022 in provincia di Sondrio. I numeri dell'indagine Excelsior portano il territorio sul podio regionale per la variazione di nuovi contratti rispetto al periodo precedente. Le aziende contano di assumere 6.000 nuovi dipendenti, 1.350 in più del terzo trimestre. La stragrande maggioranza dei nuovi contratti, oltre 5.000, sono nel comparto dei servizi, 2 su 3 nel turismo, 300 dei quali già siglati a ottobre. Solo il 15% dei nuovi assunti è però ad alta specializzazione. La quota maggiore di nuovi ingressi, il 31,7%, è destinata a personale senza alcuna formazione professionale. Seguono i diplomati e quanti hanno seguito un corso di studi professionale. I laureati sono meno di 1 su 10. Alta la percentuale di giovani, 35 su 100, valore fra i primi in Lombardia. Per quanto invece riguarda l'analisi per settore, la gran parte delle nuove assunzioni, 6 su 10, interessa impiegati e professionisti del commercio e dei servizi. Seguono posizioni senza specifiche particolari, operari specializzati e infine tecnici dirigenti. Nonostante sia un periodo non certo rosio per l'economia, si fa sentire anche in provincia di Sondrio la difficoltà a reperire personale adeguato. Il gap fra i lavoratori ricercati e quelli effettivamente assunti è vicino al 40%. Il lavoro c'è, insomma, un po' meno chi lo vuol fare.